ari eccoci con la nostra prima volta oggi uno snack molto importante che potrete trovare in tutti gli autogrill d'italia no non lo so io l'ho trovato all'autogrill comunque è una barretta di bresaula breast up proteina l'unica cosa pro etica proteica proteica che potete trovare in un autogrill non è di cavallo io non mangio carne di cavallo non perché vado anzi potrei andare a cavallo però vorrei iniziare iniziare se devo attraversare un fiume attraverso cavallo o a nuoto dipende dalla stagione comunque questa barretta è importante perché perché nel lato che non si trovano tante robe proteiche tutto carboidrati e schifezze quindi vorrei provare questa bresaula mi piaceva anche il packaging guardate vedi sembra quasi un filtro dell'olio per la moto e non qualcosa che si mangia comunque proviamo subito questa bresaula di manzo grassi acidi no no è tutto tutto naturale qui tranne della polvere di albume d'uovo non mi sembra malissimo presa una apparenza un po uno stronzo schiacciato però vabbè e da qui è tutto ma veramente ah josh fa tutto fai dè scusate mmm fai dè in l'olio d'olio 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 d